Io sono Alessandro Mazzu e ho un'agenzia di marketing e comunicazione, si chiama Quadra. Qui al Web Social Tourism mi sono occupato di due workshop, il primo sul SEO, quindi come le aziende possono sfruttare Google per aumentare la propria visibilità. Il secondo workshop era sull'advertising, mettendo un po' in evidenza le differenze tra Google AdWords e Facebook Ads. Ho notato quest'anno un pubblico maggiore rispetto all'edizione precedente, il che mi fa molto piacere e soprattutto un pubblico molto desideroso di imparare, di comprendere quali sono i vantaggi di un corretto utilizzo del Web per incrementare il proprio business. Quindi sono molto contento di questa edizione e spero che anche la prossima manterrà questo standard.